Torna una manifestazione importante, Cinema sotto le stelle, a Domenia, al Parco Maulini. Ci sono tanti appuntamenti nel mese di luglio, grazie alla collaborazione tra l'amministrazione comunale, la Soms e la Proloco. Visto il successo dell'anno scorso, abbiamo voluto riproporre questa bellissima iniziativa. Da quattro spettacoli dell'anno scorso siamo arrivati a sei, sono cinque giovedì più un martedì, e sono film per tutti, con anche dei spettacoli dedicati ai più piccoli, in modo tale che tutta la città e tutti quelli che vogliono venire a vedere il cinema all'aperto possano trovare degli spettacoli di regalimento. Il costo del biglietto sarà di 4 euro, la prenotazione sarà obbligatoria mandando una mail o telefonando direttamente alla Soms e in questi 4 euro anche compreso una porzione di popcorn che sarà preparata dalla Proloco. Esattamente, come l'anno scorso abbiamo voluto dare anche uno snack all'interno del costo del biglietto, l'anno scorso è piaciuta molto anche questa iniziativa e quindi ringrazio la Proloco che ci supporta in questo senso e ringrazio la Soms perché ci dà veramente un grande aiuto nell'organizzare insieme a noi gestire tutta la parte logistica degli spettacoli. Quindi una collaborazione che si è creata l'anno scorso e che continua anche quest'anno. Tra i sei film che verranno proiettati ce n'è uno particolare che racconta un po' la storia di Omegna. Abbiamo voluto inserire, non il giovedì ma il martedì, i film Mocanoir, un film che racconta la storia dell'industria del casalingo e purtroppo del suo diaclino. Credo che sarà anche questo un film che saprà attirare tanti omeniesi, tanti ex dipendenti delle aziende del casalingo che vorranno vederlo perché sicuramente è molto interessante.